Negli scorsi giorni inizia a girare questo filmato dove il brasiliano viene preso e bloccato fuori da poeta di strada un altro individuo Che gli fanno un po' brutto, lo minacciano e gli buttano un sacchetto con della polvere bianca a terra Che vista la situazione sembrerebbe proprio cocaina ecco Lui ci rimane un po' sconcertato e per fortuna la situazione finisce senza che nessuno alzi le mani o altro Non aggiungo altro, non vi lascio filmati, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video, linea lo studio Si a parlare però di uno Si ma non mi interessa, a me mi conosco i parenti tu Si ma non mi interessa, io per collaborare con me c'ho dei soldi, tutto e basta Ti dico una cosa, cerca di non fattigliare questi ragazzini in diretta, ha fatto di roba Siamo padri dei famigli Ma chi è la roba? La roba, la roba, la roba, la roba, tipo roba questa Ma io la sto seduta Ma che stai guardando? Ma che stai guardando? Stai guardando? Stai guardando, dai adesso un po' Ma come sono? Come sono? Dai adesso un po' a partare Ma io, oh No, ciao, ciao Oh, parano la roba